E bentornati tutti quanti in Ea Locanda, oggi andiamo a vedere tutte quante le news, andiamo anche ad analizzare un po' le carte uscite, ma soprattutto alla fine del video vi darò un piccolo consiglio che dovete assolutamente fare prima delle 19 di questa sera. Andiamo comunque con ordine, oggi 14 febbraio, ritorno a Naxxermas. Naxxout, come vi avevo già avvisato nei giorni precedenti, uscirà il nuovo mini set di Erson, è uscita tutta la patch note con tutte quante le info, quindi vi confermiamo che ci sono 38 nuove carte di cui si potranno acquistare con 1500 pietre runic oppure 2000 gold. Nel caso in cui lo voleste anche dorato, potrete andarlo a comprare a prezzo di 70 euro oppure a 10.000 gold. Insomma, non proprio economico quello gold, ma di sicuro un buon affare fa prendere quello a base con le carte normali, tradizionali. E niente, insomma, mini set confermato, ora andiamo a vedere tutte le altre carte che hanno annunciato, vi farò una rapida scarrellata di carte dicendovi sì questa carta sarà buona o no, comunque vedremo dopo. È stata aggiornata anche battaglia, mercenari come abbiamo visto, inoltre è stata anche aggiornata l'arena, verrà aggiornata, c'è questo Coppa Corgi che non si è ben capito cos'è, probabilmente una nuova skin di Batteground offerta. Inoltre ci saranno delle missioni leggendarie per cui se le andrete a completare tutte e cinque avrete le varie carte diamante come Reno Jackson diamante, Sghigno e Pirata diamante e Zola la Gorgone diamante. Sia Zola sia Reno attualmente fanno parte del set principale quindi le potrete giocare anche in standard in forma diamante. Inoltre dei piccoli bug e niente, insomma, questo direi che è tutto, ricordatevi di guardare fino alla fine il video come vi ho detto prima perché ci sarà un piccolo trick e ora andiamo ad allenizzare velocemente tutte quante le carte che sono state annunciate. Allora, velocemente andiamo a vederle, due mana, dai a tutti i tuoi demoni e Murloc detratto summon a due due Imploc. Interessante come mazzo, attualmente il Loc aveva una versione minima di Murloc, ha una versione di Imp e quindi insomma bisogna vedere se si riuscirà a trovare una quadra, no? Se vorremmo provare a fare un mazzo sia Murloc sia demoni assieme oppure se rimarranno sempre demoni e Murloc. Questa carta comunque è molto buona perché dà dei rantoli di morte quindi anche se l'avversario dovesse avere AoE, ad esempio sappiamo come Imploc soffre questa cosa, con questa carta ovviamente abbiamo modo di ripartire molto molto facilmente. Inoltre essendo demoni potranno anche essere buffati, quindi secondo me questa carta viene promossa e potrebbe veder gioco, anzi secondo me lo vedrà quasi sicuramente nel prossimo anno. O forse da subito addirittura. Due mana, due tre, Battecra e Discover ha un costo card, se il tuo avversario indovenerà la tua scelta ottiene una copia, no? Questa carta abbiamo già vista in altre salse, ad esempio ricordiamoci la 1-3 del Mage che vi dà una spell discoverata e se l'avversario la indovina la trova. Nell'1-3 era più forte, no? Uno mana, uno tre è meglio di due mana, due tre, quindi non penso che questa carta vedrà mai il gioco, secondo me verrà bocciata come carta. Andiamo subito a quella successiva, tre mana, fai due danni a tutti i servitori, se hai scartato una carta in questa partita fai un danno in più. Quindi tre mana fai tre danni a tutti i servitori, a me sinceramente non sembra fortissima, anche perché non saprei bene dove vederla, magari in un mine lock, però in verità ci sono delle soluzioni forse leggermente migliori. Inoltre quel mazzo lì non scarta, quindi non lo so, potrebbe magari vedere il gioco in OTK lock, però bah, non mi pare che ci fosse questa necessità di introdurre una carta del genere. Magari post rotazione potrebbe essere di sicuro più giocabile e magari più avanti. Ovviamente quello era il token, passiamo al druido, ovviamente sono tre carte per classe, se emana pesca tre carte, e ne se emana pescare tre carte è abbastanza scarso, però in Fuse 6, e sappiamo quanto è semplice per il druido infondere, questa costa 1. Allora, pescare tre carte a 1 mana è broken, pescare tre carte a 6 mana fa schifo. Il druido può farlo infondere 6? Sì, può farlo, tranquillamente, sappiamo che ci sono un sacco di carte che glielo permettono. Gli conviene togliere uno spazio per qualcosa? Probabilmente sì, perché pescare tre carte a druido per un mana è davvero devastante, quindi secondo me questa carta vedrà di sicuro il gioco, che sia subito, non lo so perché non è che Ramp Druid sta facendo benissimo in questo meta, è un po' troppo aggressivo per i suoi gusti, però magari in futuro secondo me questa carta viene tranquillamente promossa e verrà giocata. 1 mana, dai al tuo eroe più 2 attacco questo turno, fai danni uguali all'attacco del tuo eroe a un minion. Ecco, sappiamo che ci sono carte come 0 mana più 2 attacco al tuo eroe, in questo caso è sia dare attacco al tuo eroe sia andare a traddare un servitore. Io difficilmente penso che il druido possa avere tutta questa forza nell'attacco, no? L'unico druido che potrebbe ricevere un buff tramite questa carta è il quest druid, che non è che abbia mai visto troppo gioco in verità. È abbastanza per renderlo giocabile quel mazzo lì? Non lo so sinceramente, potrebbe forse, io penso di no, quindi per ora la boccio, anche perché la quest ruoterà, quindi questa carta secondo me non servirà molto. Però magari in futuro le prossime spazioni si concentreranno sull'attacco del druido, e quindi potrà avere un senso nel futuro, quindi per ora bocciata, ma potrebbe essere promossa più avanti, che non è malissimo. 6 mana taunt, mana thirst 11, prende più 4, più 4 e carica. 6 mana 6, 6. Interessante, interessante soprattutto per i mana thirst 11, attualmente nessuna classe può arrivare a 11 mana, a parte il druido, che grazie a Goof ci può arrivare. L'unica cosa che viene in mente a tutti quanti è che Goof ruoterà ad aprile, quindi tra due mesi ruoterà. Ha senso stampare una carta solo per vederla giocata forse, perché non si sa nemmeno se è abbastanza forte per essere giocata, in Goof druid per due mesi? Non lo so, sinceramente, io non penso, quindi se effettivamente non è così, probabilmente già da aprile vedremo qualcosa che permetterà al druido nuovamente di superare i 10 mana. È una cosa sana? Non troppo, però magari insomma fanno una meccanica bilanciata, in cui sarà interessante magari fare questo druido, magari super con cariche, cose particolari, dai 10 mana in su. Non lo so, mi fa un po' paura questa carta, però insomma diciamo da vedere. È giocabile ora? Potrebbe essere giocabile, anche se in verità il druido non è che vuole chiudere gli danni, il druido per lo più chiude perché ha appunto 20 mana, non gli serve un 6 mana 10-10 con carica. Però, insomma, potrebbe comunque vedere gioco anche per qualche testing attualmente, in futuro, a meno che non introduca una carta Simil Goof, questa carta ovviamente non verrà mai giocata perché 6 mana 6-6 Taunt fa schifo. 1 mana, vita dalla morte, ovviamente pesca 3 carte, è la carta di prima che abbiamo analizzato, quella che costava 6. Passiamo al rogue, 3 mana 1-1, infuse 2, prende più 3-3, quindi questa carta per essere giocabile deve almeno essere stata infusa di 2 e diventa una 3 mana 4-4. Se la giochi con combo diventa una 3 mana 6-6, con mana thirst 8 può diventare una 3 mana 10-10. Considerando che rogue deficiente giocherà questa roba a 8, è tendenzialmente, se la gioca a 8, secondo me ha già quasi perso e quindi è praticamente inutile. Concentriamosi sul combo e l'infuse. Il problema di rogue è che non infonde quasi nulla. E non infondendo quasi nulla, secondo me questa carta non è buona. Potrebbe vedere il gioco in futuro? Sì, potrebbe vedere il gioco, però attualmente in bingo non la vedo per niente perché appunto è difficile da infondere. E lo stesso in Edwin, non è che tu fai dei turni praticamente OTK in cui metti una bordo devastante, avversario non ha modi per rispondere e vincili sullo spot. Non serve questo servitore. Magari se più avanti ci sarà una versione di aggro rogue, questa carta a 20 potrebbe avere senso. Anche perché una versione di aggro rogue sarebbe supportata anche da questo 1-1, 1-3, che di sicuro è una carta abbastanza aggressiva perché un aggro vuole comunque attaccare con le armi, eccetera. Tu piazzi questa carta, magari a 2 mana o a 3 mana vai a settare un'arma con attacco, inizia a suormare 1-1 e capite che è anche più semplice attivare mana thirst, magari a turno 3 poi andate a giocare appunto il 3 mana di prima, insomma iniziate a mettere tante tante statistiche. Però appunto attualmente io non vedo questo mazzo, secondo me non potrà esistere dal 15 di febbraio o comunque da stasera un rogue aggressivo, secondo me non ha alcun senso. Però queste due carte comunque rimangono abbastanza buone e potrebbero vedere più avanti una vita. Invece una carta che è fatta già più per un meta attuale è Ransack, fai un danno a un servitore. Se hai giocato una carta di altre classi ne fai invece 4. Zero mana a fare 4 danni è abbastanza interessante, c'è da dire. Il problema è che ovviamente non va faccia, ma può farli solo ai servitori. A rogue serve questa cosa? Non lo so. Bingo rogue non è che particolarmente serva, però in verità a bingo soffre un po' i mazzi aggressivi, quindi questa potrebbe aiutare leggermente. Potrebbe vedere gioco? Sì, potrebbe, è una carta forte e non molto. Quindi insomma, mentre le altre due del rogue le promuovo per il futuro, questa è promossa per il presente, ma secondo me potrebbe anche non vedere mai gioco, quindi è una mezza bocciatura potremmo dire. Questa ovviamente è la carta infusa, il token e passiamo allo shaman. Tre mana a 2-3, battlecry, se hai giocato un elementale nell'ultimo turno, aggiungi 3-1-1, murlock sul campo. Questa è una carta broken. Broken perché? Perché se voi ci pensate c'è un elementale, un 1-2, ora mi sfugge il nome, che ti dice il prossimo elementale che giochi costa uno in meno. Voi capite che il frosting è un elementale, e sia un murlock sia un elementale, quindi voi andate a giocare l'1-2, e a turno 2 andate a giocare un 2-3 più 3 token 1-1. Diventa già tanta roba. Se poi avete anche la spella 3 che vi va a baffare i murlock, voi capite che questa curva è stata una roba devastante, perché arrivate a turno 3 che avete un 1-2, questo 2-3 che è stato baffato di più 2-2, quindi è diventato un 4-5, e triplo 3-3. Insomma, una curva davvero davvero spaventosa. L'elementale shaman si è giocato, il murlock shaman si è giochicchiato. Magari una crisis di questi due potrebbe essere un mazzo divertente, un po' aggressivo, e potrebbe vedere anche gioco. Questa carta è davvero forte, io la promuovo, secondo me prima o poi vedrà di sicuro gioco. Inoltre abbiamo una mana cold storage, congelo un servitore, aggiungi una copia alla tua mana. Ecco, questa carta è interessante, una carta prettamente value blaze, in quanto magari volete congelare un servitore nemico. In questo meta non me l'aspetto molto forte, in verità, perché è un meta abbastanza tempo aggressivo, e quindi tendenzialmente non volete andare a prendere questo valore, però magari in futuro potrebbe aver senso giocare questa carta, e quindi io la promuovo per le prossime espansioni. Attualmente, secondo me, non vedrà gioco. Andando avanti, abbiamo l'ultima carta dello shaman, uno mana sempre, seleziono un servitore, discovera un servitore che costa uno in più, e da trasformarlo. Ecco, quindi è un evolve che possiamo dire, più o meno possiamo calcolare. Ha senso? Probabilmente sì, non lo so bene. Secondo me evolve la giocherà, almeno in monocopia, perché con 5.4 è di sicuro una buona cosa, perché spesso 5.4 ti dà dei drop a 10, che non vuoi vedere troppo, in verità. Invece questa cosa qui, ovviamente te lo può fare andare a scegliere, puoi scegliere magari l'8-8, con Ranto di Morte che evoca un altro 8-8 con Assalto, oppure insomma delle carte interessanti, con Rush, Furo del Vento, eccetera, eccetera, al posto di trovarti un altro Gnoll. Potrebbe vedere gioco? Sì. In futuro potrà vedere gioco? Non lo so, perché secondo me evolve è tanto concentrato in questi due anni, difficilmente l'anno prossimo potrà trovare ancora spazio, però non si sa mai. Qui ovviamente abbiamo i token 1-1, e poi passiamo al Demon Hunter. Ecco, Demon Hunter forse è la classe che mi convince di meno, la carta migliore, tra virgolette, potrebbe essere questa, 6 mana 5-7. Se hai giocato 3 spell mentre avevi questa, è già una condizione molto difficile, anche se Demon Hunter ha davvero tante spell buone, quindi le gioca tranquillamente. aggiungi un differente demone dal tuo mazzo. Ecco, che demoni vuole giocare per lo più il Demon Hunter? Di sicuro il 3-6, il Colosso, è un ottimo demone da giocare, e poi ci sono altri Big Demoni che potrebbe avere, però la meccanica Big Demons in Demon Hunter non ha mai mai funzionato. Questa carta è valida? Sì, è tutto l'archetipo che invece non mi piace, quindi non lo so, non mi convince a pieno, inoltre non ha nemmeno taunt, quindi è vero che è una 5-7, però che non fa praticamente, cioè ti aggiunge un demone, ma appunto non è che abbia tutto questo grandissimo impatto. Ovviamente se becca il Colosso è un'altra cosa, perché il Colosso va a farti 8 danni, splittati grazie agli 1-2, però non lo so, non mi convince a pieno. Quest'arma invece a me proprio non piace, è un'umana 1-2, The Trattle erano tuoi morti, quindi aggiungi una carta casuale con Outcast alla tua mano. Sinceramente le carte con Outcast non sono attualmente molto forti, soprattutto poi se è casuale, secondo me lascia davvero il tempo che trova quest'arma. Questo 1-2-3 è quasi più da control, no? Però secondo me comunque in aggro Demon Hunter potrà trovare gioco, perché comunque magari se state giocando contro un altro mazzo aggressivo vi permette di fare un value trade, i 4 danni ovviamente non è un problema per Demon Hunter subirli, e quindi potrà vedere gioco sì, in che mazzo in aggro Demon Hunter è una carta forte, è una carta solida che fa il suo, però nulla di entusiasmante potremmo dire. Passando a Mage, 3 mana 1-4, dopo che hai giocato una magia, fai un danno a tutti i servitori nemici. Secondo me questa carta non è buona, costa troppo, per essere buona sarebbe dovuta essere a 2 mana, essendo a 3 mana non mi piace per niente, quindi possiamo anche skipparla, io la boccio tranquillamente. 3 mana 4-3, Grillo Battaglia, se hai giocato una spell nell'ultimo turno, discovera un elementale, anche qua. Non lo so, mi sembra un arson un po' vecchio, questo 3 mana 4-3, discovera un elementale, se hai fatto questa cosa qui, non lo so, non mi piace, io boccerò anche questa, secondo me il Mage attualmente si gioca in versione aggressiva, e non vuole vedere nessuna di queste due carte appena viste, oppure viene giocato in forma, potremmo dire, big spell, e lo stesso non viene, non ha senso né giocarla prima né questa seconda. L'ultima carta è di sicuro più per un casino Mage, 4 mana, aggiungi 2 magie casuali, dal passato alla tua mano, queste costano 2. Il problema di aggiungere 2 magie, sono 1 casuali, e quindi non le vai nemmeno a discoverare, e 2 c'è un sacco di schifezze in Wild, del passato ovviamente si intende delle espansioni precedenti, che non sono attualmente in standard. Essendoci tanto schifo in Wild, secondo me questa carta non ha alcun senso di essere giocata, soprattutto magari poi andate a trovare qualche magia, che costa 1-0 mana, non ve la sconta nemmeno, fare un 4 mana passa il turno, secondo me non ha alcun senso, magari post rotazione, ma comunque dubito che questa carta venga mai giocata. La carta più interessante è quella dei Warrior, discover a taunt, se lo giochi in questo turno, ripete questa cosa, ecco, secondo me ci sta, è un buon peschino a dire il vero, bisogna capire in che mazzo però giocarla. Hanno rilasciato un po' di carte taunt nel corso delle espansioni precedenti, ne hanno rilasciata una anche in questo mini set, che ora andiamo a vedere. Ricordo che c'è anche una spell che vi dice di pescare un taunt, è raddoppi le sue statistiche, si è arrivata un tot di mana, mi pare che sia un 7 mana, 6 mana, però intendo, boh, non lo so. Mi vedo un taunt Warrior? No, non me lo vedo sinceramente. Magari post rotazione se daranno supporto all'archetipo, potrebbe di sì, però attualmente è bocciata questa carta. Il Flash Shepard invece, 6 mana, 3,8, se hai più di 5 armor, e sappiamo che per il Warrior far 5 armor è davvero una boiata, aggiungi una copia di questa. Ecco, secondo me, già qua diventa interessante, no? Perché la spell da 1, che raddoppia le statistiche di un servitore, renderebbe questa cosa un 6, 16, e che viene raddoppiato, insomma, è un bel muro, cioè, è una roba del genere, ed è vastante. E, secondo me, questa cosa avrebbe già più senso, quindi, questa carta, io la promuoverei. E, è una giocata forte, sì, quante volte ci succede, non lo so, quindi, sì, promossa, però, non so quanto, quanto possa aver senso tutta, tutta la combo, anche perché, contro Warrior, non è che, diventi fortissimo, facendo questa combo, perché, probabilmente, se serve, sta giocando contro un mazzo aggressivo, quindi, magari, fa fatica ad avere 5 di armor, e così via. Però, secondo me, questa carta, è la migliore del Warrior, escludendo, in verità, questo 3 mana 4, 3, che è molto, molto buono, infatti, dopo che il tuo eroe è attaccato, aggiunge 4 armature, e pesca una carta, questa roba è fortissima, cioè, non ha alcun senso di esistere, il problema è, appunto, in che Warrior la vogliamo vedere? c'è, secondo me, magari, in Pirate Warrior, ma 1, la quest, fra poco gira, è un buon architipo, perché, ricordiamoci, che il primo step della quest, ti fa pescare un'arma, e te asconta anche di 1, quindi, spesso si giocava l'arma a un mana, e, e magari potrebbe aver senso questa, questa carta qui, anche perché ti dà tanto cardro, molto, molto buona, però, appunto, a parte Pirate Warrior, non so bene, dove la vorresti giocare, passiamo al paladino, 5 mana 4-6, Vaporator, Taunt, Battlecry, se il tuo mazzo non ha carte neutrali, pesca un servitore per ogni tipo, ecco, interessante, bisogna quindi costruire un paladino, che abbia, 1, non abbia carte neutrali, e 2, che abbia tante tribe, attualmente il Purpala, viene giocato una versione un po' aggressiva, no, che potrebbe aver senso, no, a questo punto, perché un 4-6, spesso quel mazzo, rimane un po' senza carte, arriva Contessa, e fa il turno finale, poi rimane senza risorse, ecco, la 4-6 potrebbe essere interessante, l'unica cosa è che, appunto, sei obbligato a giocare un po' di carte, con costi un pochino elevati, perché devi aggiungere Draghi, Undead, eccetera, eccetera, che tolgono un po' di quella pressione iniziale, quindi bisogna capire se il Purpala attuale, è meglio di una, di un Purpala, con tante tribe, potremmo dire, quindi, secondo me potrebbe aver senso, questa carta mi piace, perché ti può arrivare a pescare 5-6 carte, davvero, in un turno, inoltre è un 5 mana, 4-6 taunt, e quindi è più che discreto, per quello che fa, e quindi, secondo me, si ha senso, potrebbe vedere gioco, soprattutto post rotazione, ma, se si riesce a trovare una buona lista, anche subito, da oggi, o da domani, si potrà vedere qualcosa, ecco, partiamo con, appunto, doppia tribe, è sia un drago, sia un mech, questo 4 mana 3-5, che ha rush, e inoltre, se stai, avendo un mech, in campo, prende anche windfury, noi sappiamo, che c'era un mech, pala, ai tempi, potremmo vedere un mech pala, magari al posto di un pur pala, non lo so, perché i mech, neutrali, erano molto, molto forti, quindi, bisogna un attimo capire, come costruire questo mazzo, comunque, la carta rimane valida, non è fortissima, ma non è nemmeno male, insomma, la condizione di avere un mech, in campo, però, è ardua da avere, di sicuro, è leggermente migliore, questa carta, secondo me, 3 mana 5-5, batte il cry, fai 5 danni, al tuo eroe, se, ovviamente, hai già più di, o, hai 7 mana, o ne hai già di più, invece, ti cura di 5, ecco, questa potrebbe essere una buona carta, da andare a pescare, dal, dal puratore, no, perché 3 mana 5-5, è un undead, quindi viene sempre pescata, e, e potrebbe avere senso di, essere aggiunta in quel paladino, perché è anche una versione un po' aggressiva, passando al prete, distrò, 4 mana, distrugge un servitore, cura, la, della sua salute, del servitore distrutto, a tutti i friendly, servitori, insomma, testa, anche l'eroe viene considerato, questa carta è buona, boh, non mi piace troppo, particolarmente, un single target removal, a 4, c'è la luce brucia, che fa più o meno la stessa cosa a 1 mana, è vero che non ti cura, però, sti, cioè, sti cavoli, in verità, non mi piace particolarmente, undead, quindi sappiamo che esiste una versione undead di priest, vediamo cosa hanno pensato, 4 mana, 5, 4, non solo vi draga, se è stato, se avete dragato un undead, fai 5 danni all'eroe nemico, ecco, quindi, state giocando a Mazz Undead, ha senso giocare una 4 mana, 5, 4 che fa 5 danni, potrebbe aver senso, in verità, sono tanti burst, in doppia coppia, sono comunque 10 danni totali, e quindi, potrebbe, aver senso, secondo me, è una carta forte, non particolarmente forte, però, potrebbe vedere, magari uno spot, perché sono tanti danni, che vanno, comunque, testa, Mindseer, 1 mana, fai 2 danni, a un servitore, se questo muore, fai 3 danni, all'eroe nemico, ecco, già questa carta, secondo me, è meglio, anche perché è una spell shadow, quindi, può essere giocata in un shadow priest, fare 2 danni, e farne anche 3 faccia, vi permette, magari, di fare un value trade, vi permette, di andare a fare altri danni, insomma, che, accumulate anche i 10 danni di prima, potrebbero essere abbastanza, per rafforzare, tutto l'archetivo, undead shadow, Hunter, 7 mana, discover una bestia, dal tuo mazzo, e aggiungila, se hai mana, terzi 10, inoltre, aggiungi un'altra copia, quindi, ad esempio, se avete King Crash nel mazzo, non solo questa vi evoca King Crash, ma se avete 10 mana, ve ne evoca 2, quindi, sono 16 mana, se avete Lothemar, i King Crash, sono diventati 16-16, quindi, sono 32 danni, a parte l'elefanta combo, questa carta, potrebbe essere discreta, per il, big, per il big beast Hunter, l'unica cosa, che di solito, quel mazzo lì, vorrebbe giocare, le sue bestie, un po' scontate, no? Questa carta, costa 7 mana, stai, di solito, le, grandi bestie, dell'Hunter, costano 7 mana, quindi, non è che stai facendo nulla, di troppo particolare, potrebbe vedere gioco, sì, magari in monocopia, la metti, però, non è che sia tutta questa, grandissima forza, secondo me, di carta, 2 mana, un nuovo segreto, dell'Hunter, dopo che l'avversario, ha giocato un servitore, aggiungi 4-1-1, che lo attaccano, no? È un po' bis, di Salvatore di Uldum, non so, se vi ricordate, che era quella spell, mi pare, del Druido, che aggiungeva, 4 api, che poi, lo attaccavano, è abbastanza buona, questa carta, potrei dire, perché, ad esempio, se l'avversario gioca un 2-2, o un 2-3, comunque, magari, può essere, al suo turno 2, o al suo turno 3, vi rimangono, anche delle api, magari, vive, quindi, potrebbero aiutare, vi aggiuntano anche con le infusioni, quindi, sicuro un segreto, che non è malissimo, l'unica cosa, che è segretante, attualmente, non esiste, non so se ha senso, mettere un segreto, casuale, in un mazzo, secondo me, non ha troppo senso, però, magari, in futuro, è una carta buona, quindi, secondo me, potrebbe aver senso, e non mi dispiace, per niente, ultima carta del Lanter, un'umana, pesca, una spell, da un costo, 1-1, un card draw, davvero cheap, per Lanter, un tutore, per tracking, magari, o qualcos'altro, che magari volete, è buona, sì, abbastanza, quindi, secondo me, vedrà gioco, prima o poi, magari, appunto, più per l'effetto di tutorare, quindi, andare a cercare, una specifica carta, è particolarmente forte, no, comunque, viene promossa, con il minimo dei voti, secondo me, qui, ovviamente, abbiamo i vari token, per quanto riguarda, invece, le neutrali, passiamo a vedere, Taddeus, che è la carta più interessante, su cui giro un po' tutto, il mini set, 10-1, 11-11, credo che sia la prima volta, che vediamo queste statistiche, un po' particolari, Taunt, le tue carte dispari, costano solamente 1, inoltre, poi, ogni turno, viene cambiato questo effetto, quindi, le carte dispari, costano 1, quando lo giochi, il prossimo turno, saranno quelle pari, poi, torneranno quelle dispari, eccetera, eccetera, io non penso che Taddeus, rimarrà così tanto in campo, se dovesse rimanere, ovviamente, così tanto in campo, penso che avrete vinto la partita, però, ora, dobbiamo pensare, come, possa essere giocato, questo mazzo, allora, di sicuro, Druido, che può arrivare a 20 mana, lo può giocare tranquillamente, inoltre, ricordiamoci che, c'è una carta, alla Celestial, che lo renderebbe a umana, però, renderebbe già tutte le altre carte a umana, quindi, qui, ovviamente, non, non ha senso, escluso Druido, che altre classi potrebbero giocare? Secondo me, potrebbe giocare lo Shaman, in quanto, in Evolve Shaman, a parte che, se ti esce dall'Evolve, questa cosa, impazzisci, anche perché, la carta a uno, che vi va a far discoverare un servitore, in ottica di discoverarvi Taddeus, potrebbe essere una giocata devastante, vero? E niente, insomma, detto questo, comunque, c'è il 3-6, no, che vi swappa i servitori, in Shaman, di solito, avete tanti totem, che vengono invocati dall'arma, che fa un danno, quindi, magari, vi potete swappare Taddeus, potete fare un turno incredibile, e che non è davvero per niente male, e altre classi, magari c'è, appunto, modi per evocarlo dal mazzo, è un Undead, quindi ci sono anche modi per rievocarlo, da quando è morto, quindi, risuscitarlo, insomma, una carta interessante, io non sono un grandissimo deck builder, quindi non so bene dove verrà trovato, anche c'è una carta ai paladino, che tipo dice, evoca tutti i servitori, dal mazzo tuo e dell'avversario, quindi anche da lì, vi potrebbe uscire Taddeus, eccetera, eccetera, e niente, insomma, una carta di sicuro molto interessante, vedrà gioco assolutamente promossa, secondo me, anzi, è una carta che rischia di spaccare Airstone, e niente, quindi sono curioso di vedere le liste che usciranno, se avete idee, su come giocarlo, scrivete oppure nei commenti, andiamo avanti, uno mano, uno tre, insomma, una piccola amalgama, di sicuro abbastanza forte, secondo me, a vedere il gioco, insomma, tutti gli uno mano, uno tre hanno visto gioco, in particolare, questa è super flessibile, può essere giocata più o meno in tutti quanti i mazzi, anche tipo i nanoli di K, uno mano, uno tre, che è un undead, potrebbe essere utile, quattro mano a cinque quattro, detrattle, usa tutti i tuoi cristalli, aggiungi, quel numero di cristalli utilizzati, come due due zombie, con rush, ecco, carta un po' troppo lenta, secondo me, comunque discreta, però non so bene dove, dove vederla, in prete, non la vorrei vedere, questa carta, nemmeno in anoli, quindi, boh, non lo so, discreta, ma bocciata, per un pelo, direi, purtroppo, tre mana, tre tre, rush, mana thirst, sei, ottiene reborn, cartaccia, secondo me, davvero, carta filler, c'era la mummia, no, del, del warrior, che aveva rinascita il rush, quella sì, che era una carta forte, ma perché lo potevi fare a quattro mana, e comunque era un meta diverso, un po' più lento, un po' più debole, questa carta, deve aspettare, mana thirst sei, appunto, se almeno fosse stato, mana thirst quattro, potevo dargli una speranza, poi inoltre ha solo tre di attacco, quindi, davvero, davvero brutta, non mi piace, invece, rivender, carta più interessante, di sicuro, è tanto lenta la combo, cosa fa? Sei mana, sei sei, detrattol, metti altri tre, eh, cavalieri nel tuo mazzo, una volta che saranno morti tutti e quattro cavalieri, cioè questo e gli altri, senza che, eh, sia stato silenziato l'ultimo, ovviamente, eh, hai vinto la partita, in che mazzo possiamo vederlo? eh, non ne ho la più paliera idea, sinceramente, però, secondo me, è un wild, questa roba potrà fare porcherie, in standard un po' meno, quindi, promossa, perché secondo me uscirà prima o poi un mazzo, ma secondo me non sarà mai un mazzo tier 1, tier 0, quindi, va bene, ma un po' tutto troppo lento, secondo me, quindi, promossa al pelo, questi sono tutti e quattro cavalieri, senz'altro molto belli e molto carini, eh, per quanto riguarda il DK, che sono state le prime carte, eh, è stato tagliato il video in cui vi annunciavo, quindi, comunque, ve le vado a rianalizzare, un luogo del DK, primo luogo, mancava, era l'unica classe a non averlo, eh, di sicuro interessante, c'è una spell del DK a noli, mi pare, che ha più o meno lo stesso effetto, costa due mana, ti dice, distruggi un tuo, eh, undead, eh, per summonare un 4-5 con rush, ecco, questa carta è molto più solida, perché te lo permette di fare tre volte, eh, quindi riesce a sfruttare di più anche l'HP, di sicuro, una buona carta, secondo me potrebbe vedere il gioco appunto in quel mazzo lì, e niente, insomma, anche perché sono tanti cadaveri in più che, che arrivano, è comunque una giocata a tempo abbastanza buona nel lungo periodo, la tremana 2-3 invece abbate il Cry, se hai giocato tre spell mentre avevi questa in mano, frizza tre nemici randomici, ecco, questa carta io non la vedevo molto in frost DK puro, ma magari ero curioso di vederla in un DK misto con rune rosse e rune blu, perché dico questo? Perché tendenzialmente quel mazzo lì, secondo me non andrebbe a vincere di danni come fa il frost, ma andrebbe a vincere di contro come fa il blood, ehm, grazie anche alla nuova leggendare che ora andiamo a vedere, questa carta ovviamente, eh, stalla su board, quindi, è ottima, direi, ha solo una runa del gelo, quindi può essere tranquillamente giocata, in un mazzo con una runa del gelo e due del sangue, e quindi potrebbe vedere il gioco in quella lista lì, secondo me, invece nella lista frost difficilmente che verrà giocata, quindi promossa anche questa al pelo. E poi l'ultima carta, leggendaria, frost queen sindragosa, settimana 6-6, doppia runa, sia sangue sia gelo, per questo che vi parlavo di un DK, eh, con queste due rune incrociate, doppio colosso, eh, dopo che hai attaccato, dopo che un servitore è stato congelato, lo distrugge. Ecco, appunto, ehm, questa carta funziona bene, no? Anche con, la 2-3, di prima, che congela, ad esempio, a turno 10, si potrebbe pensare di mettere in combo le due carte, inoltre, ovviamente, vi evoca i vari 2-1, che vanno a congelare sempre il nemico, e quindi, eh, hanno rush, e quindi, tendenzialmente è un distruggi 2, e vi rimane un 6-6, che comunque ha vari effetti interessanti. Questa carta è molto buona, secondo me, super control, super, eh, super carina, insomma, il design e tutto quanto, quindi questa la promuovo, io spero proprio di vedere un mazzo, così, eh, con rune rosse e blu, perché secondo me sarebbe una figata incredibile. Niente, insomma, queste erano tutte quante le carte, eh, una bella scarrellata, che è dorata un bel po', arriviamo con l'ultima cosa, che vi avevo promesso, eh, di dirvi, appunto, un piccolo segreto da fare assolutamente prima delle 19, ed è quello dell'arena, infatti l'arena verrà aggiornata, ogni volta che aggiornano l'arena, eh, cos'è che fanno? Se voi avete una run in sospeso, ad esempio, siete 5-2, sulla run, io vi consiglio, non finite quella run lì, lasciate in sospeso, o comunque iniziatela ora, arrivate fino a due sconfitte, quindi cercate di andare più avanti possibile, che alle 19 di oggi, vi daranno le ricompense che ovviamente avete ottenuto, quindi se avete fatto 5 win, vi daranno le ricompense di 5 win, che è di sicuro un pacchetto, e inoltre un po' di gold e dust, inoltre vi daranno un ticket gratis, per poter fare una nuova arena, quindi, eh, facendo così, vi guadagnate un ticket di un'arena, e quindi, insomma, sono risorse gratis, assolutamente fatelo, che almeno, otteniamo qualcosa, ogni volta che esce un mini set, o un'espansione, io lo suggerisco di farlo, e niente, insomma, questo è tutto per oggi, noi ci vediamo domani, con i nuovi mazzi, eh, per il nuovo mini set, e niente, ciao ciao!